Il piccolo vicinato prevede servizi per la cittadinanza. Progetto S. Lunga all'ex consorzio agrario a Lodi il primo passo decisivo. Martedì sera nella sala consiglio di Palazzo Broletto, sede del comune, l'amministrazione di centro-destra sottoporrà ad approvazione l'adozione del piano integrato di intervento presentato da S. Lunga. Malgrado le perplessità delle opposizioni di centro-sinistra, di molte associazioni attive in città, dell'associazione di servizi al commercio e di diversi cittadini, la coalizione di maggioranza sembra intenzionata ad approvare l'adozione, superando questo primo ostacolo amministrativo. Si affretta, infatti, di tradurre in realtà un progetto di ampio respiro che possa rilanciare l'amministrazione Casanova. Ne ha bisogno perché, sinora, sul versante delle promesse fatte in campagna elettorale, la giunta guida leghista ha fatto ben poco, lasciando in sospeso persino l'intervento di Bandiera, il recupero della piscina con Cardi. Le critiche più sommesse, quelle provenienti dalla gente comune, si fanno di giorno in giorno sempre più espliciti e c'è bisogno per l'amministrazione di centro-destra di rilanciare la sua immagine. Il progetto S.Lunga, sull'ex consorzio agrario, poco convincente ma gradito alla gente, può servire a questo scopo. Di qui la fretta da approvarlo per tradurlo in realtà prima della fine del mandato.